uno centrale cinque volte perfezionista poliziotto che fantastica storia la vita di venditti la notte energia minus musica ho parlato per un po di minuti di un giocatore che era stato sostituito in quel set quindi parlavo a vuoto michael jordan di fare metterci sempre tanto cuore e tanta passione in quello che si adora fare che si ama di più condividere l'ultimo pezzo di baretta proteica con un mio pari ruolo e che nella nazionale attuale è un centrale si chiama mazzone